La Versace è il comitato contro le discariche di Pucita allo Sano, faccio anche parte della legge del territorio che ho fatto un istituto. La prima cosa che volevo dire è che, rispetto un po' a tutti gli interventi, intanto una serie di comitati in questo territorio sono usciti dalla sindrome del secciato, la cosiddetta sindrome di Nindi, perché non ha senso che fanno una discarica a 10 km, vuol dire che dal momento che questo sistema è un sistema ingordo, che più ci sono interessi che gli spingono e più tenta di conquistare, di mettere veleno sul nostro territorio, la discarica che fanno a 30 km da Tossano, che hanno fatto Tossano qualche anno fa, significa che ci sarà altro territorio fra 10 anni, altro territorio e vedo che comunque almeno da questo punto di vista in questa parte della provincia, questa unità da parte dei sindaci c'è, io tra l'altro stiamo costruendo questa unità anche da parte dei movimenti, dei comitati e vi assicuro che una cosa che non finirà domani sulla discarica di Scalacelli, è un meccanismo quello dei rifiuti che penso che voi sapete meglio di me, che in parte è stato anche detto che è un meccanismo ingordo che va assolutamente bloccato ed è un meccanismo che da qualche parte va bloccato e noi abbiamo individuato in questo momento proprio la discarica di Scalacelli per disinnescare questo mostro che da 14 anni sotto il commissariamento, ma da decenni sta divorando il nostro territorio e spinto da interessi personali. La prima cosa che voglio chiedere, perché voi ne comprati, perché molte cose le sapete sicuramente meglio di me, è che io ringrazio i sindaci che questa parte dei sindaci sono aperte al confronto, ai comitati cittadini, alle associazioni ed è una cosa di cui mi ha dato atto, minoranze, maggioranze, nella massima unità possibile, questo incontro io vi chiedo di trasformarlo in un tavolo permanente, da qui fino a che noi non vinciamo questa battaglia, cioè fino a quando la sospensione di questi procedimenti, fino a quando la discarica di Scalacelli è stato semplicemente un brutto sogno, ci svegliamo e non ci sarà più, io vi chiedo di trasformare questa cosa in un tavolo permanente, sarà semplicemente per me, dal momento che ho parlato di rettica politica e passione, soprattutto in un territorio, penso in un piccolo mondo come Scalacelli, è normale che la politica si trasformi poi in scorsa, però io credo che già la partecipazione è costante, la presa di posizione pubblica è costante, delle istituzioni ad un tavolo permanente, insieme ai comitati, che a differenza dell'Abbietto fa il proprio dovere, chiaramente l'Abbietto è una società a scopo di lucro e tenta di curare i propri interessi, fa lucro, poco importa se per fare lucro c'è bisogno di vendere banali oppure di prendere territorio e mettere il cimonezza dentro. Quindi la prima richiesta che faccio, mi tengo che l'adesione e la partecipazione, la presa di posizione pubblica costante a questo tavolo permanente sia anche come dire un modo per togliere in mezzo tanti equivoci, perché se di equivoci si tratta, penso che la partecipazione ad un tavolo permanente insieme ai comitati cittadini e spontanei faccia, in qualche modo da Roma, la partecipazione a questo tavolo possa essere anche un modo per cominciare a programmare il territorio insieme ai cittadini, per avviare la partecipazione attiva. Passo avanti, noi sappiamo benissimo, credo che anche da questo punto di vista, lo sapete meglio di me, gli esperienti tecnici sono molto utili per prendere tempo, sono molto utili anche per mettersi in una posizione di vantaggio, ma quello che sta portando questo territorio in generale della Calabria a diventare una discarica a cielo aperto è una volontà politica, è dettata dai interessi voti, è dettata dai interessi dell'Andrangheta, io non voglio dire che l'Abbieco non è uguale all'Andrangheta, che nel ciclo dei rifiuti ci sia l'Andrangheta, non lo dice la relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta dell'Ambordato Pecorella, la settima commissione parlamentare che direttamente o indirettamente si occupa del ciclo di rifiuti in Calabria, il che è tutto dire, sono sette gioielli alla corona del commissariamento che durano 14 anni e se questo è vero noi a volontà politica e interessi politici particolari dal mio punto di vista, penso sia condiviso, dobbiamo contrappondere la chiara volontà politica del territorio e i chiari interessi collettivi, perché purtroppo gli interessi particolari si contrappondono al nostro manorato costantemente agli interessi collettivi e magari perché no? A partire anche da una presa di posizioni oggi, un documento pubblico firmato da tutti quanti i sindaci, ulteriori delibere, dobbiamo uscire fuori la volontà politica del territorio, anche se mi sembra che sia stata già fatta, ma questa volontà politica deve essere ribadita e deve essere ribadita secondo me già a partire da stasera per un documento forte, un documento però politico, non un documento tecnico, perché mentre chi di noi è bravo a individuare tutte le magagne che ci sono, come dire, degli espedenti tecnici dietro cui si maschera la volontà politica, noi dovremmo fare dei documenti politici, dobbiamo dire che questo territorio non ne può più della gestione comissariale, dobbiamo dire che questo territorio non ne può più di avere una legione che non si occupa di creare una filiera della raccolta differenziata, di finanziare delle società pubbliche, ma è una regione che si occupa al di là del colore politico, anche questo è una facilità che penso noi, mi sembra molto buono di creare di centri, in altri comuni, dobbiamo andare a vedere da lì, al di là del colore politico della regione, poi uno di noi sa chi sono gli esponenti della regione, chi sono i commissari e i subcommissari, uno di noi sa, ma non è una capacità di individuare nella regione, non una contropatia, ma sicuramente un'istituzione che sbaglia, e se da molto tempo e da più parti, da parte nostra c'è una sfiducia nei confronti anche delle istituzioni locali, coloro che rappresentano le istituzioni locali ce ne daranno atto, purtroppo se siamo in questa situazione, voi stesso l'avete annunciato di continuo, ci sono delle istituzioni che sbagliano, chiamiamole svisse, chiamiamole poca accortezza, ma ci sono delle istituzioni che sbagliano. Da questo punto di vista, anche perché voglio dire, il commissario, gli assessori regionali e i governi, i presidenti del Consiglio che hanno ricevuto la richiesta di prova del commissariamento, l'hanno accettata ed hanno nominato su richiesta dal presidente del Consiglio della regione, il commissario, tutti gli anni sono stati di qualsiasi colore, da 14 anni a questa parte è possibile, sia la regione che ha un governo che sono avvicinati molti importanti, per cui non dobbiamo avere la capacità di ribadire questa cosa e di fare in modo che la regione senta il peso di questo territorio, le istituzioni a fianco di modi dei cittadini, della cittadinanza, quindi vi chiedo anche una presa di posizione pubblica a partire da ora e anche l'adesione, perché da questo punto di vista noi sicuramente lo stiamo mani nelle mani, facciamo tra virgolette il nostro dovere per i cittadini, cittadini attenti, purtroppo sappiamo che non tutti i cittadini sono attenti, noi da cittadini attenti abbiamo convocato una manifestazione il 10 dicembre, ne convoceremo un'altra, perché noi dobbiamo far sentire la pressione alla regione, agli uomini competenti, all'acqua, ma io da questo punto di vista, a proposito delle istituzioni che risparliano, mi confesserò che non ho molta fiducia, per mia esperienza personale, per quanto riguarda il comitato di Bucida, il comitato dello carbone, una serie di cose in cui l'acqua non ha esattamente soddisfatto i miei desideri, ma al di là di tutto dobbiamo far sentire la pressione di tutto il territorio a questi soggetti, noi commuoveremo un'altra manifestazione e la cosa che chiediamo già per la presenza di impegno di stasera è che tutti i sindaci, i consigli comunali, l'idonanza, l'opposizione adiriscono immediatamente a questa manifestazione e si facciano portatori con noi di questa voce del territorio, che quindi non è, anche se poi i libri sono utili, non è una questione la riscarica di Scalacelli, perché altrimenti non sarei qui, se la riscarica di Scalacelli riguardasse solo Scalacelli a Pagliati probabilmente io sarei a Rossano al Bava con il linguaggio a te, e penso che questo riguarda tutto il territorio e quindi chiedo questa adesione, questo documento pubblico che sia un documento politico, che sia contro la gestione al di là del collo politico, privatistica per interessi individuali, commissariale, emergenziale, della regione, di tutte le sue istituzioni e questo documento io personalmente come comitato di difesa di Bucita, la rete di difesa del territorio, lo useremo, lo useremo e ci date a noi strumenti, come noi diamo lo strumento a voi, diceva prima benissimo il sindaco, l'opinione pubblica è uno strumento nei confronti per un amministratore che ha buona volontà, perché è uno strumento per continuare la nostra lotta e la nostra battaglia e penso che in questo modo, questa battaglia, così come altre battaglie, in questo territorio non si perde soltanto, una multinazionale come l'Ellen, dallo Stato il progetto del carbone l'ha tolto, con gli spedienti tecnici e politici, c'è stata l'opinione pubblica, sono state le istituzioni, sono state queste cose, queste battaglie si possono vincere, se è l'interesse nostro, quello collettivo, al di là del nostro ruolo di vincerlo, io penso che in questo modo ci riusciremo, per cui ribadisco, la convocazione di un tavolo permanente a cui siamo invitati anche noi, veramente, un documento pubblico oggi magari da ribadire anche, perché giustamente l'assessore del vento mi faceva andare a risolvere, sono già delle delibere, si di deliberarsi, noi adesso abbiamo fatto deliberare tre volte sulla centrale Enel, una forza al Consiglio Comunale Convento, si troverà, l'adesione a una manifestazione pubblica che noi convolveremo, è un documento pubblico da far uscire già, grazie.